Fra Natale e Capodanno c'è stato un vero e proprio inseguimento di Matteo Salvini su Instagram. Se lo contendevano a suon di like, quericini e auguri di buone feste due showgirl di primo piano che difficilmente possono passare inosservate, Elisabetta Gregoraci, tornata libera dopo la lunga prigionia nella casa del grande fratello VIP, e Francesca Cipriani, la super maggiorata divenuta VIP proprio passando attraverso quasi tutti i principali reality show, dal grande fratello alla sua sesta edizione, Isola dei Famosi, Pupa e Secchione. Bacini e cenni di intesa che però non vengono colti dal destinatario, Salvini ha altro per la testa e non nota le due fan speciali, non degnandole di una risposta o di un like.